Io mi vaccino perché è l'unico modo per poter sconfiggere la pandemia. L'ultimo anno sarà ricordato da tutti per quello che è stato l'aspetto negativo. Per un uomo come me, un uomo di sport, un uomo di calcio, sicuramente questo anno sarà ricordato per tutto ciò che non mi ha fatto fare. Bene, il calcio, gli abbracci, gli spintoni, gli strattoni sono all'ordine del giorno e non averli potuto fare, non averli potuto vedere in quest'anno sicuramente mi ha tolto tanto. Per questo motivo mi vaccino e credo fortemente in questo nuovo percorso. Grazie per la visione! Grazie per la visione!